Ciao a tutti cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul mio canale. Oggi siamo qua per un nuovo video e per andare a chiedere alle mie carte se la persona che avete nel cuore e a cui state pensando farà un passo importante nei vostri confronti. Per fare questo utilizzeremo le sibille e i tarocchi. Abbiamo qua tre varianti tra le quali potete già se volete iniziare a scegliere, quindi cristallo trasparente, cristallo rosa e cristallo rosso. Vi ricordo che questo è un consulto collettivo, quindi è una lettura interattiva. Potete, se volete, pensare anche a più di una persona. L'importante è che non scegliate la stessa variante per due persone, ma ogni persona deve avere la sua variante. Bene, detto questo, voglio ricordarvi molto brevemente che per consulti privati con me potete contattarmi nei recapiti che vedete sotto, quindi Whatsapp o email, oppure vi lascio sopra dove compare il cerchiettino con la i. Adesso vi faccio comparire il link che, vi ripeto ancora una volta, già l'ho detto in altri video, ma ovviamente non so mai quale video vedete per primo, quindi iscrivetevi al canale innanzitutto se è la prima volta che mi state guardando. Praticamente cliccando sul link che vi ho messo, vi si aprirà una pagina piena di bottoncini, diciamo di bottone di scritte dove potete andare a divertirvi un po', a guardare il mio sito, i miei social, la pagina dove si vendono le mie carte, quelle prodotte da me, insomma, e anche c'è direttamente il pulsante per contattarmi tramite Whatsapp, oppure se cliccate sull'iconcina a forma di bustina, mi potete scrivere una mail, quindi è molto semplice contattarmi, link e poi cliccate dove c'è scritto clicca qui per contattarmi su Whatsapp. Bene, detto questo, io direi di andare a iniziare subito la lettura di oggi, abbiamo detto che la domanda è se una persona farà un passo importante nei vostri confronti, quindi andiamo subito a preparare le tre varianti e andiamo a vedere cosa ci dicono le carte. Pensate alla persona intanto e fate comunque la vostra scelta. Mi ricordo che il video è valido sempre nel momento in cui lo vedete, indipendentemente da quando questo venga pubblicato. vi ricordo anche per chi me l'ho chiesto che io eseguo i miei consulti normalmente dal lunedì al venerdì e anche a volte il sabato mattina, però non ricevo il sabato pomeriggio e nella domenica. Ovviamente ricevo inteso comunque sempre consulti telefonici, vi ricordo, e anche consulti tramite Whatsapp o via email, quindi consulti scritti, consulti tramite vocali o consulti il suo appuntamento telefonico, non ricevo al momento di persona. Scusate, mi si è scomposto tutto il mazzo, è vivo questo mazzo di parte. Tutto bene. Ok, allora andiamo. Componiamo i tre mazzetti. Avete scelto la vostra variante? Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di commentare il video e di mettere il like se il video vi è piaciuto. Prima variante, iniziamo subito ad andare a fare la nostra lettura e andiamo a vedere se la persona a cui state pensando, voi nel cristallo trasparente, se farà un passo importante nei vostri confronti. Bene, allora io direi di sì, innanzitutto. Le carte danno che questa persona probabilmente farà delle scelte anche importanti rispetto a voi, rispetto comunque alla situazione vostra. Le carte mi dicono che probabilmente questa persona sta pensando proprio anche con un po' di difficoltà a fare una scelta proprio di vita che potrebbe anche comportare un cambiamento importante di quello che è tutto l'assetto. Allora, se siamo di fronte ad una situazione nella quale questa persona magari vive per conto suo, magari vive con i genitori o magari ha una situazione diciamo pregressa, ecco è possibile che questa persona voglia lasciare diciamo la sua vecchia situazione, qualsiasi essa sia, quindi se ovviamente ancora più importante potrebbe essere il cambiamento laddove si dovesse trattare proprio diciamo di una persona impegnata o sposata, perché potrebbe anche addirittura prendere la decisione di lasciare la sua situazione per stare con voi laddove voi diciamo foste l'altra parte diciamo come dire. Se invece questa persona magari vive da un'altra parte, se comunque diciamo vive da solo ripeto oppure con i genitori o insomma un altro contesto, ecco potrebbe prendere una decisione, cioè io qui ci vedo anche la possibilità effettiva di fare un passo che possa diciamo essere anche l'inizio di una convivenza o comunque di cambiare la sua situazione abitativa per cercare di essere più presente nella vostra vita e le carte dicono che però ci sono delle difficoltà che probabilmente qualche diciamo scompenso emotivo questa persona ce lo potrebbe avere, tuttavia si tratta comunque di un passo che dimostrerà l'amore nei vostri confronti, ok? Ecco qui vedete i tarocchi ci stanno sostanzialmente confermando un pochettino questa situazione diciamo di come dire di difficoltà se vogliamo, cioè nel senso che effettivamente ci sarà una riuscita, quindi farà questo passo effettivamente, però non senza passare attraverso diciamo delle problematiche di tipo come dire emotivo, di confusione, cioè questa persona potrebbe avere qualche motivo di diciamo come dire non di ripensamento ma di esitazione, di dubbio, di paura eccetera, anche perché secondo le carte è una persona diciamo che ultimamente sta passando un po' attraverso delle difficoltà, quindi sta valutando un pochettino, valuterà probabilmente i pro e i contro ma soprattutto anche le difficoltà pratiche che questa decisione potrebbe portare e quindi diciamo però nonostante queste piccole esitazioni, nonostante queste problematiche, in ogni caso le carte dicono che c'è la riuscita, ok? Quindi farà questo passo importante nei vostri confronti. Bene, detto questo andiamo a fare la lettura per quanto riguarda la seconda variante, quindi il cristallo rosa. Allora, vediamo un po'. Allora, qui diciamo c'è una situazione un pochino diversa, nel senso che le carte mi danno che ci potrà essere diciamo un contatto importante da parte sua nei vostri confronti, a seguito però diciamo di qualche problema che ci può essere stato, cioè nel senso che le carte dicono che forse lui vorrà chiarire o comunque risolvere, insomma comunque lui o lei naturalmente, o comunque mettere mano a delle problematiche che sono diciamo dovute anche a pettegolezzi. Quindi le carte cosa ci stanno dicendo qui in questo caso? Che probabilmente c'è stato qualcuno che ha arremato un po' contro diciamo la vostra situazione, ok? Però le carte dicono che questa persona, che voi avete a cuore su cui state facendo appunto questa lettura, vuole risolvere questo problema, vuole mettere fine a questi pettegolezzi, a queste ostilità e quindi più che altro il suo gesto diciamo che quello che vuole fare nei vostri confronti forse non è proprio un passo importante in questo momento, ma è un'azione volta diciamo a risolvere queste problematiche. Allora andiamo adesso a vedere con i tarocchi che cosa ci dicono le carte. ecco diciamo che più che gesto diciamo importante torna qui il concetto che era un po' già diciamo nell'aria, nella lettura precedente, di voler fare un gesto forse un po' impulsivo, un po' improvviso, ok? Quindi andando appunto a mettere a tacere queste situazioni un po' pericolose, cioè nel senso che probabilmente questa persona inizialmente si è intimorita o comunque si è lasciata condizionare forse da questi pettegolezzi, ok? Ma diciamo adesso farà questo slancio, quindi forse è stato, potrebbe essere una persona che magari mi viene da pensare vedendo un po' anche queste carte, che forse si è un po' ritirato, diciamo che magari non va contattato recentemente, quindi vi ricontatta, cioè quindi il gesto importante in questo caso forse potrebbe essere letto come un ritornare a farsi sentire, quindi un passo che nonostante diciamo le paure dovute e diciamo forse anche causate insomma dai pettegolezzi o da queste persone negative verso di voi o verso la vostra situazione, questa persona diciamo ritorna in maniera anche abbastanza come dire impetuosa, mi viene da pensare, a ricontattarvi. Ecco è questo un po' il gesto che forse vi potrebbe stupire rispetto comunque a questa persona o stupire o comunque insomma qualcosa di un po' inusuale rispetto ai suoi modi di fare. Bene, andiamo adesso ad analizzare invece la terza variante, quindi il cristallo rosso. Allora vediamo cosa farà questa persona, se farà effettivamente un passo importante verso di voi. Beh, allora, qui, scusatemi, diciamo che più che un passo importante nei vostri confronti io qui ci vedo diciamo una manifestazione di gelosia, ok? Da parte di questa persona nei vostri confronti. Una manifestazione di gelosia che sarà piuttosto diciamo come dire impulsiva, ok? Ma soprattutto che sarà un po' come vi posso dire, non ingenua, ma adesso mi sfugge il termine, vi devo chiedere scusa, non proprio razionale, ecco sì, forse un po' irrazionale, una manifestazione di gelosia che forse vi farà un po' sorridere, che forse vi farà un po' tenerezza, che forse lo fa tradendosi un po' in qualche modo, no? Rispetto a quello che è il suo modo di tenersi anche un po' tutto dentro, ok? E quindi secondo le carte diciamo farà questo gesto, ok? Forse dubitando in qualche modo anche di una situazione un po' come dire, un po' sciocca forse, ecco quindi è una gelosia un po' poco fondata probabilmente, ecco perché magari voi in realtà non ti state dando un motivo di essere geloso o gelosa, ma questa persona così ha questo impeto un po' che forse tende un po' a scadere, ecco perdonatemi forse un po' nel ridicolo, ma nel senso che vi farà sorridere, ecco questo è un po' il concetto. Andiamo un pochino a vedere. ecco appunto, sì ci torna un po' questa cosa, cioè nel senso che sicuramente questa persona manifesta in maniera anche un po' come dire impulsiva appunto, mi torna sempre questo tipo di discorso, una sorta di sofferenza, di paura, cioè nel senso che sarà nonostante il vostro comportamento invece diciamo positivo, magari accogliente e quant'altro manifesterà comunque diciamo una situazione sì di un po' irrazionale, torno a ripetere, di cioè si farà vedere un po' scoperto, un po' ferito da un qualcosa che forse in realtà non ha ragione di esistere, ecco quindi questo però può essere in qualche modo una strada, diciamo un'apertura verso una dichiarazione comunque di sentimenti fondamentalmente perché se ci pensiamo bene comunque la gelosia o il dichiarare tu mi fai soffrire, tu mi fai uscire pazzo o cose di questo genere è comunque in qualche modo una dichiarazione di sentimento nei tuoi confronti. Quindi diciamo che c'è questo tipo di apertura che non è proprio magari un gesto diciamo importante, un passo importante ma magari per una persona come questa a cui state pensando potrebbe essere già tanto perché poi tutto è relativo, dipende sempre molto da come è la persona e da cosa ha fatto o non ha fatto fino adesso insomma ecco. Bene, fatemi sapere naturalmente nei commenti voi del cristallo rosso soprattutto se questa persona ha mai manifestato gelosia nei vostri confronti insomma o se magari ecco il fatto che lo possa fare può stupirvi o comunque essere considerato da parte vostra un gesto importante. Bene, io ho terminato anche questa lettura, vi ringrazio come sempre per seguirmi, vi ringrazio per avermi ascoltati, ascoltata scusatemi fino a qua se lo avete fatto naturalmente, io vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!